Il primo King Kong del 33, era un firma? In bianco e nero. Eh, bellissimo, è il primo. Sarà il giudato per la prima volta d'inverno nel 2022 in Catarse. Mondiale di calcio. Sarà il mondiale di calcio del Catarse. Ve lo faranno fare. Io ho sentito grandi discussioni. Io non so se nel frattempo abbiamo detto che vi parlo da un giudato che avevamo detto. Poi, non so se non si rilassero in calcio di stiamo. No, non so se non si rilassero in grandi discussioni. Vediamo di arrivare al 2022. E poi, non so se non si rilassero. E' un grande grande. Il significato letterale di Tommy. Eh, questa è brava, no? Questa è brava. Ci ho messo due secondi. Chi l'ha portato fa il coniglio Roger? Chi è incassato Roger? Tanda, 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 tanda. Il coniglio è un coniglio. È un coniglio. Buongiorno! Buongiorno!